La resistenza italiana affonda le sue radici nell'antifascismo, fenomeno che si sviluppa nel periodo che va dalla metà degli anni di venti del ventesimo secolo fino all'inizio della seconda guerra mondiale. Dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924 e la successiva assunzione di responsabilità da parte di Mussolini, nel regno d'Italia inizia a instaurarsi la dittatura fascista che procede alla sistematica persecuzione degli oppositori politici. Gli antifascisti sono quindi costretti a organizzarsi in clandestinità sia in Italia sia all'estero e la loro azione, frammentata in piccoli gruppi non coordinati e principalmente rivolta al versante ideologico, è incapace di minacciare il regime. I copiosi scritti, prodotti principalmente dagli esuli antifascisti, non riescono infatti a raggiungere le masse e di conseguenza non sortiscono alcun effetto. Sarà poi l'andamento disastroso delle operazioni belliche nazifasciste nella seconda guerra mondiale a dare la possibilità alle forze politiche antifasciste di uscire dalla clandestinità e organizzare la lotta politico-militare contro l'occupante tedesco e il governo collaborazionista di Salò. Ricordiamo che in seguito allo sbarco degli alleati in Sicilia e alla progressiva perdita di consenso subita dal regime fascista, il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo approva l'ordine del giorno presentato da Dino Grandi con il quale si chiede al re di assumere il comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria. Come sappiamo Vittorio Emanuele III accoglie l'invito e fatto arrestare Mussolini nomina capo del governo il generale Pietro Badoglio, il quale elimina le modifiche messe in atto del fascismo all'ordinamento statutario ottocentesco e pur mantenendo il divieto di istituzioni di partiti politici promette l'indizione di nuove elezioni entro quattro mesi dalla data in cui sarebbe cessato il conflitto. Il 5 agosto del 1943 viene soppressa la Camera dai Fasci e delle corporazioni mentre rimane in carica il Senato del Regno. In seguito all'armistizio di Cassibile firmato il 3 settembre e reso pubblico l'8 settembre, armistizio che prevede la dichiarazione di non belligeranza e la rottura dell'alleanza con la Germania nazista da parte dell'Italia, il re e il governo Badoglio lasciano Roma dove sono presenti forze tedesche e fuggono a Brindisi. Il paese si trova così diviso in due, il cosiddetto Regno del Sud già liberato dagli alleati e formalmente sotto la sovranità sabauda e la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò, uno stato fantoccio formalmente guidato da Mussolini liberato dai paracadottisti tedeschi il 12 settembre del 1943 che comprende le regioni del centro nord ancora occupate dai nazifascisti. anche se non in modo formale il potere Regio è di fatto delegittimato. Al sud per via delle condizioni dell'armistizio e al nord per via della formazione della RSI. Vista la situazione i partiti politici italiani decidono di uscire immediatamente dalla clandestinità e alle 16.30 del 9 settembre del 1943 in via Carlo Poma a Roma sei esponenti politici dei partiti antifascisti formano il Comitato di Liberazione Nazionale o CLN, la struttura politico-militare che sarà poi protagonista della resistenza italiana. I sei fondatori del CLN sono Pietro Nenni per il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, Giorgio Amendola per il Partito Comunista Italiano, Ugo Lamalfa per il Partito d'Azione, Alcide De Gasperi per la Democrazia Cristiana, Meuccio Ruini per Democrazia del Lavoro e Alessandro Casati per il Partito Liberale Italiano. Per iniziativa di Nenni il 12 settembre si forma a Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che più tardi diventerà l'organismo coordinatore della guerra partigiana al nord. Nei giorni seguenti nascono comitati di liberazione a Torino, Genova, Padova e Firenze per organizzare la lotta armata nelle regioni occupate dai tedeschi. Nel frattempo, il 29 settembre del 1943, il governo Badoglio approva il cosiddetto Armistizio Lungo, che pur rendendo esecutivo il principio della resa incondizionata, prevede che gli alleati si impegnino ad ammorbidire le condizioni della resa stessa in proporzione all'aiuto che l'Italia avrebbe fornito nella lotta contro i nazisti. L'Armistizio Lungo prevede inoltre che il governo Badoglio dichiari guerra alla Germania, condizione alla quale adempia il 13 ottobre consegnando la dichiarazione di guerra all'ambasciata tedesca a Madrid. Dal punto di vista politico, è questo un atto molto importante in quanto pone ufficialmente il Regno del Sud all'interno delle forze alleate, sia pur con la qualifica di cobelligerante. Alla metà di settembre del 1943 i nuclei partigiani contano circa 1500 combattenti in tutto. 1000 nel nord Italia, di cui 500 in Piemonte, soprattutto nelle valli alpine, e 500 nell'Italia centrale, di cui 300 sono raggruppati nei monti delle Marche e dell'Abruzzo. In un primo momento questi gruppi vengono organizzati e comandati da giovani ufficiali e sotto ufficiali del regioesercito, ormai allo sbando, ai quali si affiancano presto i primi capi politici, che saliranno sui monti per prendere parte alla lotta e organizzarla. Nel novembre del 1943 le forze partigiane aumentano a circa 3800 uomini, di cui 1650 in Piemonte. Le formazioni partigiani non adottano divise, ma usano dei semplici fazzoletti di riconoscimento. Ad esempio sono rossi quelli delle Brigate Garibaldi, organizzate dal PC, verdi quelli delle Brigate Giustizia e Libertà, che fanno riferimento al Partito d'Azione, e azzurri quelli dei gruppi autonomi. Oltre a queste formazioni ricordiamo quelle socialiste, denominate Brigate Matteotti, e i gruppi di ispirazione cattolica che prendono il nome di Fiammi Verdi, attivi soprattutto nel Bresciano e nel Bergamasco. Esistono poi tutta una serie di formazioni indipendenti operanti al di fuori del CLN, come ad esempio quelle di ispirazione anarchica. Ricordiamo che il 25 gennaio del 1944 le formazioni partigiane socialiste organizzano e mettono in atto l'operazione che porta all'evasione del carcere di Regina Celi di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, catturati nell'ottobre del 1943 condannati a morte. Entrambi diventeranno successivamente presidenti della Repubblica Italiana. Saragat nel 1964 e Pertini nel 78. Alla lotta partigiana in Italia si uniscono anche alcuni gruppi di disertori tedeschi come il capitano Rudolf Jacobs ed i combattenti sovietici, circa 5.000, passati con i partigiani dopo la fuga dai campi di prigionia. In questa prima fase all'interno del movimento partigiano si evidenzia il contrasto tra le formazioni legate ai partiti politici antifascisti e alcune componenti militari. Queste ultime infatti considerano la resistenza come un fenomeno che si sarebbe dovuto limitare al sabotaggio e alla raccolta di informazioni in attesa dell'intervento delle forze alleate. Questa posizione è condivisa e sostenuta dal marescello Badoglio e dal re che si sentono minacciati dalla crescita di un fenomeno sul quale non hanno alcun controllo. Al contrario i dirigenti politici del movimento, preoccupati per un possibile risorgere delle forze conservatrici, spingono per una intensificazione delle azioni partigiane nonostante le difficoltà operative e le prime operazioni repressive nazifasciste. Tra dicembre del 1943 e gennaio del 1944 le forze tedesche mettono in atto le prime massicce operazioni di repressione antipartigiana al nord, caratterizzate dall'uso di metodi terroristici anche nei confronti dei civili. Questi primi mesi della resistenza sono estremamente duri per i partigiani, che ancora poco organizzati, quasi privi di armi e munizioni e senza il sostegno degli alleati devono affrontare una vera e propria lotta per la sopravvivenza. In queste stesse settimane l'avanzata anglo-americana e la ritirata tedesca nel sud Italia innescono una serie di ribellioni spontanee da parte delle popolazioni meridionali che pur prive di collegamenti con il movimento partigiano e poco organizzate riescono tuttavia a intralciare i nazifascisti, scatenando anche in questo caso violente reazioni sui civili. Il 28 e 29 gennaio del 1944 i membri del CLN si riuniscono nel congresso di Bari, in cui chiedono l'abdicazione del re, la creazione di un nuovo governo che veda la partecipazione di tutti i sei partiti del CLN e la convocazione di un'assemblea costituente non appena cessate le ostilità. Nel nord Italia intanto le forze politiche di sinistra organizzano uno sciopero generale dal 1 all'8 marzo del 1944, cui prendono parte oltre 500.000 lavoratori. Questa operazione è un grande successo politico per le forze antifasciste, nonostante la violenta repressione infatti i nazifascisti non riescono a fermare le manifestazioni, perdendo da un lato ulteriore credibilità nei confronti della popolazione e dall'altro inimicandosi la classe operaia. Alle bande partigiane operative principalmente nelle montagne si affiancano nelle grandi città in mano ai nazifascisti i GAP, cioè gruppi di azione patriottica. Organizzati in cellule di 3-4 elementi i GAP compiono attentati contro importanti personalità fasciste o naziste, o nei locali frequentati dalle truppe occupanti allo scopo di diffondere il terrore. Nelle fabbriche si costituiscono poi i SAP, cioè le squadre di azione patriottica, una vera e propria milizia clandestina che si pone l'obiettivo di rendere più ampia possibile la partecipazione popolare alla resistenza. Le azioni dei GAP scatenano però violente rappresaglie da parte dei nazifascisti, soprattutto sulla popolazione civile, e suscitano quindi di perplessità tra immoderati e critiche da parte del clero cattolico. Il 23 marzo del 1944, ad esempio, ha luogo il sanguinoso attentato di Via Rasella a Roma, in cui rimangono uccisi 33 soldati tedeschi. La rappresaglia nazifascista dà luogo il giorno successivo all'uccisione di 335 civili e militari italiani. L'episodio è passato alla storia come eccidio delle fosse Ardeatine, in quanto le fosse Ardeatine, antiche cave situate nei pressi della Via Ardeatina a Roma, vengono scelte quale luogo del massacro e per l'occultamento dei cadaveri. Altra azione dei GAP che susciterà molte polemiche per via della violenza delle rappresaglie che ne seguono è l'uccisione del 15 aprile del 1944 a Firenze del filosofo Giovanni Gentile, figura di spicco della cultura fascista. Nonostante le polemiche, i GAP rimarranno operativi fino al giorno della liberazione. Nel marzo del 1944 l'Unione Sovietica riconosce ufficialmente e inaspettatamente il governo Badoglio, anche per via della disponibilità di quest'ultimo a consentire il rientro in Italia del segretario comunista Palmiro Togliatti. Si perviene così alla famosa svolta di Salerno, con la quale nell'aprile del 1944 tutti i partiti politici faccenti parte del CLN mettono da parte i sentimenti antimonarchici e decidono di rimandare alla fine della guerra la questione istituzionale, ossia la scelta tra monarchia e repubblica, accettando di entrare in un nuovo governo di unità nazionale guidato da Badoglio. Allo stesso tempo Vittorio Emanuele III si impegna a cedere i suoi poteri al figlio Umberto II non appena Roma fosse stata liberata. Il 22 aprile nasce così il governo Badoglio II. Dopo aver resistito alle operazioni di repressione nazifasciste di primavera, le forze partigiane continuano a crescere soprattutto grazie alla partecipazione di molti giovani che si rifugiano tra le montagne per sfuggire ai bandi di arrullamento forzato approvati da Mussolini e sollecitati dalle autorità tedesche. Si calcola che al 30 aprile del 1944 le forze della resistenza continuano tra i 20.000 e 25.000 uomini, tra uomini e donne, con un nucleo combattente in montagna di circa 12.600 unità di cui 9.000 al nord e 3.600 al centro sud. Il ruolo del CLNAI cresce di importanza col passare del tempo fino a divenire una sorta di governo ombra nei territori occupati, riuscendo a mantenere la coesione tra le diverse posizioni politiche, a gestire i rapporti con gli alleati e a finanziare la guerra partigiana attraverso reti di collegamento con la Svizzera. Intorno alla metà del 1944, dopo notevoli contrasti tra le parti, il CLNAI, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e le forze politiche della resistenza a Roma, decidono di creare una struttura militare unificata di tutte le forze partigiane combattenti, struttura che prende il nome di Corpo dei Volontari della Libertà CVL. Nonostante la repressione nazifascista, le formazioni partigiane passano all'offensiva e nell'estate estendono progressivamente le aree liberate dai nazifascisti. Si costituiscono così 15 zone libere, le cosiddette piccole repubbliche, con un'amministrazione politica, economica e finanziaria e con corpi di polizia e difesa. Vengono liberate tra le altre le valli del Cunese, la Val Pellice, la Val Chisone, quasi tutta la Val d'Aosta, le colline intorno a Biella, alcuni centri della Valsesia e Lanzo Torinese. Nell'Appennino Ligure si forma la Repubblica di Bobbio che si estende fra le province di Piacenza, Parma, Pavia, Alessandria e Genova e che ha come capoluogo la città di Bobbio in Valtrebbia, liberata il 7 luglio del 1944. Nell'Appennino Modenese viene organizzata la Repubblica di Montefiorino, nel Bellunese si costituisce una zona libera nell'altopiano del Cansiglio e in Friuli viene liberato un vasto territorio lungo il Tagliamento. Il 4 giugno del 1944 Roma viene liberata dalle truppe alleate e il re nomina suo figlio Umberto II luogotenente del regno. Il 18 giugno viene nominato un nuovo governo con a capo Ivanù e Bonomi. Il governo avrà inizialmente ancora sede a Salerno e si sposterà a Roma a partire dal 15 luglio. L'esistente accordo tra la Corona e il CLN viene formalizzato nel decreto legislativo luogotenenziale 151-1944 che stabilisce che alla fine della guerra sarebbe stata convocata un'assemblea costituente per dare una costituzione al nuovo Stato. Ricordiamo che il decreto legislativo luogotenenziale è un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei Ministri e promulgato dal luogotenente del regno durante il regno d'Italia. Dopo la caduta di Roma il Feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, riesce a controllare la situazione organizzando con grande abilità la ritirata attraverso l'Italia centrale. Le forze tedesche ripiegano con ordine prima verso il lago di Bolsena e poi sulla linea del lago Trasimeno, la cosiddetta linea Albert. Kesselring inoltre riesce a convincere Hitler a rinunciare a una certamente fallimentare resistenza a oltranza e a proseguire nella ritirata strategica al fine di guadagnare tempo. Nel frattempo lo stesso Kesselring dà ordine di costruire la cosiddetta linea gotica, una nuova linea difensiva sulla quale intende bloccare l'avanzata alleata prima dell'inverno. Necessitando però di ulteriore tempo per completare le fortificazioni, Kesselring decide di intensificare la difesa della linea Albert. Le manovre dell'esercito tedesco vengono però ostacolate dalle azioni delle bande partigiane che il 13 giugno del 1944 liberano Terni, il 15 giugno liberano Grosseto e il 3 agosto raggiungono Fiesole e i soborghi di Firenze dove entrano il giorno successivo. La notte dell'11 agosto, dopo aver distrutto tutti i ponti tranne Pontevecchio, le forze nazifasciste abbandonano Firenze e si trincerano sulle colline a nord della città. All'interno della città le forze partigiane eliminano i numerosi franchitiratori fascisti rimasti e i molti collaborazionisti, mentre il CLN toscano assume i pieni poteri in attesa degli alleati che arriveranno il 13 agosto. A questo punto sembra che gli alleati possano facilmente oltrepassare la linea gotica già durante l'estate per poi dilagare nella pianura padana. In previsione di ciò le forze partigiane passano all'offensiva allargando notevolmente il territorio controllato e costituendo numerose zone libere. Le forze occupanti reagiscono però con numerose azioni di repressione e rastrellamento sistematico, volte a schiacciare la resistenza partigiana, terrorizzare la popolazione che simpatizza per la resistenza e rioccupare le zone libere. Ricordiamo tra le altre la riconquista del Monte Grappa a settembre che causerà l'annientamento delle brigate partigiane in sua difesa e numerosi episodi di violenza sui civili, in una delle pagine più spietate e sanguinose dell'intera guerra di liberazione. Dopo i primi successi, Kesselring estende i rastrellamenti a tutte le posizioni partigiane utilizzando ben sei divisioni tedesche e quattro della Repubblica di Salò. L'azione più significativa è quella contro la Repubblica dell'Ossola, in quel momento la più importante tra le zone partigiane libere. Avviata il 9 ottobre viene condotta per la maggior parte da forze fasciste che ottengono un successo immediato grazie alla loro superiorità in termini di mezzi. Il 14 ottobre i fascisti entrano a Domodossola, città oramai deserta, in quanto la maggior parte dei civili, circa 35.000, stanno fuggendo verso nord. Alla fine di ottobre del 1944 gli alleati tentano di superare le difese tedesche sulla linea gotica e il rompere così nella pianura padana. L'azione non avrà però successo e porterà a un prolungamento della guerra in Italia, aggravando ulteriormente la situazione della resistenza nei territori occupati. Il 2 novembre le forze nazifasciste attaccano la Repubblica di Alba, costringendo i partigiani a ripiegare sulle colline e dopo duri scontri a cedere completamente il controllo del territorio. Nelle settimane seguenti le operazioni degli occupanti si estendono su tutte le vallate alpine. La più violenta, sanguinosa e prolungata offensiva nazifascista è quella contro la Repubblica della Carnia, a partire dal 27 settembre, nella quale vengono impiegati oltre 40.000 soldati tedeschi e fascisti e un insieme di reparti etnici, quindi croati, georgiani, francesi collaborazionisti ecc. Dopo poche ore dall'inizio dei combattimenti i partigiani sono costretti alla ritirata, che viene però intercettata dai tedeschi, i quali infliggono loro ulteriori gravissime perdite. L'offensiva nazifascista in questa zona continua fino ai primi di dicembre e si estende alle montagne, dove le resistenze partigiane vengono annientate o sono costrette a disperdersi. Soltanto piccoli gruppi di partigiani rimangono nascosti nelle grotte delle montagne più impervie. Nello stesso momento il CLNAI e il Corpo Volontari della Libertà ottengono finalmente il riconoscimento ufficiale da parte degli alleati, timorosi fino a quel momento di un predominio comunista all'interno del movimento. Il 7 dicembre il generale britannico Wilson, comandante supremo alleato del fronte mediterraneo, dopo aver ottenuto garanzie sul passaggio immediato di poteri nelle zone liberate alle autorità alleate e sulla consegna delle armi, firma il patto con le forze della resistenza riconoscendo nell'autorità nel nord Italia e garantendo finanziamenti e rifornimenti. L'inverno del 1944 è un momento molto difficile per i partigiani. Le spietate operazioni di repressione, il tempo inclemente in montagna e la mancanza di sostegno da parte degli alleati, che invitano i partigiani a fermare le operazioni in attesa di nuove offensive alleate in primavera, causano una grave crisi del movimento che vede molte formazioni sciogliersi. Inoltre, l'amnistia proclamata dal regime di Salò il 28 ottobre del 1944 e le offerte tedesche di clemenza riscuotono un discreto successo e molti combattenti abbandonano le armi e si consegnano al nemico. Si stima che i partigiani attivi a dicembre siano tra i 30.000 e i 50.000 uomini e donne. La resistenza riesce però a sopravvivere sia per le determinazioni della sua dirigenza politico-militare e dei suoi nuclei operativi, sia soprattutto perché le sorti del conflitto mondiale stanno volgendo decisamente in favore delle forze alleate. Decisivo è inoltre l'aumento degli aiuti da parte delle potenze anglosassoni che forniscono armi, vettovaglie ed equipaggiamenti in abbondanza. Nei primi mesi del 1945 le truppe nazifasciste lanciano nuove operazioni di rastrellamento, senza però ottenere risultati di rilievo in quanto i partigiani sono in fase di crescita e rafforzamento. Si stima infatti che ai primi di marzo del 1945 il numero dei combattenti sia circa di 80.000 unità che saliranno a circa 130.000 nelle settimane successive, quando gli alleati lanciano le loro offensive in tutta Europa e l'Armata Rossa sta marciando su Berlino. Nei giorni dell'insurrezione della fine di aprile i partigiani raggiungeranno ufficialmente un numero di circa 300.000 uomini e donne, anche se dal punto di vista operativo i combattenti attivi ammonteranno a circa 100.000 unità, di cui 30.000 in Piemonte, 9.000 in Lombardia, 12.000 in Veneto e 12.000 in Emilia. Di questi 100.000 uomini e donne circa 51.000 appartengono alle unità comuniste delle brigate garibaldi. In questa fase finale della guerra, nonostante evidenti segni di sgregamento, le forze nazifasciste sono ancora numericamente consistenti e meglio equipaggiate delle formazioni partigiane. L'esercito tedesco, pur impegnato sulla linea del fronte per cercare di contenere l'inevitabile offensiva alleata, mantiene ancora 9 divisioni nella Valle del Po con circa 90.000 soldati, ai quali si aggiungono i reparti fascisti che dispongono di 102.000 uomini. Fin da febbraio i leader del CLNAI e dei CLN locali studiano il modo di favorire un'insurrezione generale della popolazione, ritenuta indispensabile soprattutto dai comunisti al fine di anticipare l'arrivo degli alleati e dimostrare la volontà democratica e antifascista del popolo italiano. In funzione di ciò vengono approntati piani per salvare le centrali elettriche e gli impianti industriali dalle distruzioni preparate dai tedeschi e per evitare la distruzione del porto di Genova. Durante le ultime settimane della guerra sorgono gravi problemi politici per la resistenza. L'inviato del governo di Roma infatti durante un tesissimo incontro al CLNAI chiarisce che terminato il conflitto gli alleati hanno intenzione di disarmare le formazioni partigiane e assumere i pieni poteri, mettendo da parte i CLN. Inoltre la Chiesa tenta di favorire accordi tra i moderati e i fascisti nel timore che un'insurrezione possa portare al potere i comunisti. L'offensiva finale alleata, iniziata il 9 aprile del 1945, ha subito successo e costringe le forze tedesche a ripiegare ulteriormente, questa volta in gran disordine. Il 10 aprile il Partito Comunista decide per l'insurrezione generale. Il 16 aprile il CLNAI comunica a tutte le forze della resistenza di insorgere, decretando anche la condanna a morte per Mussolini e tutti i gerarchi. Il 19 aprile del 1945, mentre gli alleati dilagano nella Valle del Po, i partigiani mettono in atto l'insurrezione generale con la parola d'ordine a rendersi e operire, con cui intimano alle forze nazifasciste la resa incondizionata per evitare la fucilazione. I partigiani confluiscono così verso i centri urbani del nord Italia e occupano prefetture, caserme e fabbriche, nelle quali viene dato l'ordine di proteggere i macchinari dalla distruzione. Le truppe nazifasciste battono in ritirata e si disgregano in brevissimo tempo. Il 19 aprile ha inizio l'insurrezione a Bologna, liberata due giorni dopo anche grazie all'aiuto di due divisioni americane, seguono Ferrara il 21 aprile e Modena il 22. I partigiani inoltre inseguono e bloccano le truppe tedesche in rotta. Tra il 24 e il 25 aprile gli alleati liberano Reggio Emilia e Parma, dove la resistenza cittadina aveva già preso il controllo dei punti strategici, e il 29 aprile anche Piacenza è libera. In generale si può affermare che in Emilia le forze partigiane di montagna vengano in parte sorprese dalla velocità dell'avanzata alleata e arrivano in ritardo nelle città già liberate dalle truppe regolari anglo-americane con il concorso delle formazioni GAP e SAP cittadine. A Genova le forze nazifasciste tentano di trattare con i partigiani, ma senza successo. Dopo violenti scontri e il tentativo di distruzione del porto, alle 19.30 del 25 aprile le forze di occupazione firmano la resa, impossibilitate a fuggire in quanto tutte le vie di fuga della città sono state bloccate. I partigiani, oltre a salvare il porto dalla distruzione, catturano circa 6.000 prigionieri che consegnano agli alleati giunti in città il 27 aprile. In Piemonte le formazioni partigiane scendono dalle montagne, puntando su tutte le principali città, tra cui Cuneo, Novara e Torino. Il 25 aprile iniziano gli scontri a Cuneo, che viene liberata il 29 aprile dopo alcune trattative con i tedeschi. I partigiani raggiungono poi Torino il 28 aprile, che viene in gran parte liberata dopo violenti scontri. Gli alleati giungeranno nella città soltanto il 1 maggio. A Milano il comitato insurrezionale, del quale fa parte anche Sandro Pertini, dopo le prime notizie provenienti da Genova, decide di scatenare l'insurrezione nel capoluogo Lombardo il 24 aprile. La sera dello stesso giorno le brigate SAP danno inizio ai combattimenti nelle fabbriche della periferia, mentre alcuni reparti partigiani si avvicinano alla città da sud e da ovest. Il 25 e 26 aprile i primi partigiani raggiungono Milano, molti reparti fascisti battono in ritirata, mentre i tedeschi restano in armi nei loro quartieri senza combattere, come da ordine del generale Wolf, che stava trattando con gli alleati. Il 28 aprile giungono in città altri reparti partigiani provenienti da Novara e il pomeriggio dello stesso giorno, in piazza Duomo, si tiene una grande manifestazione popolare per celebrare la liberazione e la vittoria della resistenza, alla presenza di molti leader partigiani e politici. Le truppe alleate arrivarono a Milano il primo maggio del 1945. Come sappiamo, il 25 aprile, giorno dell'inizio dell'insurrezione a Milano, è stata designata quale giornata simbolica della liberazione d'Italia dal regime nazifascista e denominata festa della liberazione. Preso alla sprovvista dalla scoperta delle trattative segrete del generale Wolf con gli angloamericani, il 25 aprile Mussolini tenta di trattare con gli esponenti del CLNAI con la mediazione del cardinale Schuster. Fallito questo tentativo, il Duce abbandona Milano con alcuni fedelissimi e si dirige in direzione del lago di Como, dove giunge la sera del 25 aprile. Verso le 4 del mattino del 26 aprile, la carovana abbandona Como percorrendo la strada che costeggia la riva occidentale del lago, giungendo a menaggio intorno alle 5.30 del mattino per poi proseguire verso nord-ovest in direzione della Svizzera, arrivando al piccolo paese di Grandola ed Uniti. Venuti a conoscenza del fallito tentativo dei ministri Tarchi e Buffarini Guidi di entrare in Svizzera, bloccati dai partigiani, i membri del convoglio, a cui si è intanto aggiunta l'amante di Mussolini, Clara Petacci, decidono di ritornare a menaggio e temporeggiare. Raggiunti poi da una guarnigione di soldati tedeschi diretta a Merano, attraverso il passo dello Stelvio, guarnigione composta da 38 autocarri e 200 soldati, Mussolini, gli altri gerarchi e le rispettive famiglie decidono di aggregarvisi. La colonna, lunga circa un chilometro, parte da menaggio alle 5 del mattino, ma dopo due ore appena fuori dall'abitato di Musso, viene fermata a un posto di blocco delle Brigate Garibaldi. Dopo una breve sparatoria e in seguito a lunghe trattative, i tedeschi ottengono il permesso di poter proseguire a condizione che venga permessa un'ispezione e che siano consegnati tutti gli italiani presenti nel convoglio, nel sospetto proprio che vi si nascondesse qualche gerarcha in fuga o addirittura il duce. Mussolini, su consiglio del capo della sua scorta SS, indossa un cappotto e un elmetto da sottofficiale della Wehrmacht. Si finge ubriaco e sale sul camion numero 34, nascondendosi in fondo al pianale vicino alla cabina di guida, coperto da un telo militare. A nessun altro italiano sarà concesso di tentare di seguire Mussolini nel convoglio. Nel frattempo alcuni gerarchi si consegnano al parroco Don Enea Mainetti nella canonica di Musso che li affiderà ai partigiani. In questo contesto il sacerdote viene a conoscenza della presenza di Mussolini nella colonna e ne dà comunicazione agli uomini che ne stanno effettuando la perquisizione nella piazza di Dongo. Verso le ore 16 del 27 aprile Mussolini viene riconosciuto dal partigiano Giuseppe Negri e dopo essere stato disarmato viene arrestato. Mussolini e Lapetacci vengono quindi separati dagli altri gerarchi e portati a Giulino di Mezzegra dove alloggiano per una notte in una casa contadina. Mussolini viene poi consegnato a un gruppo di partigiani inviati dal CLNAI di Milano guidati da Walter Audisio e Aldo Lampredi, due importanti esponenti del Partito Comunista all'interno delle forze della Resistenza. Il 28 aprile del 1945 Mussolini e Lapetacci vengono uccisi da Audisio e dal partigiano Michele Moretti. Dopo l'esecuzione Audisio e Lampredi ritornano a Dongo dove si trovano gli altri fascisti catturati. 15 gerarchi vengono fucilati e i loro cadaveri insieme a quelli di Mussolini e Lapetacci vengono portati a Milano e simbolicamente esposti in piazzale Loreto in quanto era stato luogo di una sanguinosa rappresaglia nazifascista dove appunto questi cadaveri sono oggetto di oltraggi da parte della popolazione. Il 29 aprile del 1945 il CLNAI diranno un comunicato in merito all'uccisione di Mussolini. Ne citiamo alcune righe? La fucilazione di Mussolini e dei suoi complici è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie, materiali e morali. Quello stesso 29 aprile, con la resa incondizionata dell'esercito tedesco, la resistenza italiana formalmente termina. Il 2 maggio il generale britannico Alexander ordina la smobilitazione delle forze partigiane e la consegna delle armi. L'ordine viene in generale eseguito seppur in tempi diversi in relazione all'avanzata dell'esercito alleato e segna il formale passaggio di poteri al governo italiano.